Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilum News. L'effetto metallizzato sta spopolando nel mondo della moda. Non potevamo per questo restare indifferenti e non avere un accessorio che vi permettesse di creare i vostri progetti handmade. E quale migliore accessorio se non le borse? Andiamo infatti oggi alla scoperta della fettuccia Lycra Luxe. Se quello che cercate sono colorazioni uniche, la parola d'ordine è luminosità, allora è il prodotto che fa per voi. Andiamo allora insieme alla scoperta della Lycra Luxe. Come vediamo si presenta in formato bobina, abbastanza grande, ha infatti il peso di 300 grammi ed una lunghezza di 150 metri all'incirca. Si tratta quindi di una fettuccia per la quale consigliamo gli uncinetti dal 5 al 7. Lavorando la fettuccia questa diventerà poi tubolare. La larghezza della fettuccia aperta è di circa due centimetri e mezzo. La caratteristica principale senza dubbio di questa fettuccia, oltre al suo effetto laminato, è sicuramente quella di essere molto leggera. È inoltre anche moderatamente elasticizzata quindi questo rende ancora più leggeri i vostri progetti. Pensate infatti che con una sola bobina riuscirete a creare la vostra pochette. Questa qui è il colore azzurro. Come vedete grazie ai suoi riflessi di luce sembra davvero richiamare i colori del mare. Abbiamo poi il verde e passando ad una tonalità più chiara possiamo vedere il lime. Non potevano certamente mancare le sfumature del rosa. Quindi partiamo da un colore più tenue quindi il cipria e poi il glicine. Arrivando fino a dei colori più decisi come il viola ed il fucsia. E per concludere un colore davvero unico il rainbow. Come possiamo vedere qui abbiamo una sfumatura che richiama proprio l'arcobaleno. Quindi pensate ad un accessorio creato con questa fettuccia che effetto unico che otterrete. Come abbiamo appena visto le colorazioni disponibili sono davvero tante. Ce n'è per ogni gusto. E che dire poi della fettuccia rainbow. Una sfumatura di colori che richiamano l'arcobaleno davvero unica nel suo genere. Perfetta per creare una pochette che sia tutta nella tonalità rainbow o pensate magari utilizzata per creare un dettaglio che potrebbe essere un manico o una tracolla ma anche semplicemente solo la patta e poi abbinata ad una fettuccia di licra che sia quella lux o alla fettuccia di licra in tinta unita. Quindi con una sola bobbina pensate che potrete creare una pochette ma aumentando un po la quantità potreste anche creare delle borse di medie dimensioni ma pensate anche degli zainetti. Il risultato sarà leggero, molto pratico e grazie ai colori metallizzati un effetto davvero unico. Che dire poi della famosissima marshmallow l'accessorio dell'anno che ha davvero spopolato su tutto il web. Questa fettuccia si presta infatti anche per la creazione di accessori home decor. Potrete creare ad esempio dei portavasi così come ci mostra Kao nel suo tutorial. Quindi dalle pochette, clutch, zainetti all'home decor davvero uno prodotto versatile che anche grazie alla sua vasta gamma di colorazioni si presta ai più svariati progetti. Non vi resta quindi che scegliere quella che preferite. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social così da non perdere nessuna novità. La pagina Facebook Meglio di Maya ma anche il nostro gruppo ufficiale Tessiland. La pagina Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog dove ogni settimana ci sono tantissime curiosità. Al prossimo Tessiland News!